Decreto salva spesa L'Associazione dell'Agricoltura Italiana si è fortemente attivata per la promozione di una misura d'obbligo nei confronti delle aziende. Cosa dovranno fare queste ultime? Ecco la risposta a questo interrogativo. L'obbligo richiesto alle ditte dall'Associazione dell'Agricoltura Italiana è l'indicazione della provenienza dell'ingrediente primario. Ciò deve essere ben indicato sull'etichetta di ogni prodotto alimentare. Lo scopo di tale richiesta? Un aiuto concreto per l'economia, il lavoro e il territorio italiano. I cambiamenti dovuti dal decreto salva spesa, made in Italy. Si tratta di un supporto rilevante e concreto per riuscire così a impedire a prodotti provenienti dall'estero di essere distribuiti come made in Italy. Tra l'altro, si parla di prodotti che spesso non rispettano i parametri qualitativi imposti dal governo italiano. Quali sono i vantaggi del nuovo decreto per le etichette alimentari? I benefici apportati da tale decreto sono ben visibili. Di fatti in questo modo, i consumatori potranno appurare delle precise informazioni. Per esempio, se la pasta che comperano al supermercato è costituita da grano duro italiano, oppure canadese. Da considerare che il canadese è trattato con dei metodi che sono anche adesso vietati dal nostro paese. Inoltre, si potrà pure sapere se il concentrato di pomodoro è made in Italy, o se invece si tratta di quello cinese. Come pure si saprà finalmente se la mozzarella è di provenienza italiana, oppure se è prodotta con il latte lituano. Si tratta sicuramente di un cambiamento che aspettavamo in tanti. Ciò in quanto i clienti potranno così effettuare una scelta d'acquisto più consapevole. In questo modo la clientela avrà a disposizione tutti i mezzi necessari per decidere se il prodotto in questione sia degno di finire nel carrello della spesa o no. E voi, cosa ne pensate dei cambiamenti previsti da questo decreto? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti!